440.000 euro di crediti d'imposta non dovuti, finanziati anche dal PNRR. Nel mirino della Guardia di Finanza di Arezzo sono così finite aziende e negozi. Alla base dei riscontri ci sono state mancanze di presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla legge. In particolare i finanzieri del nucleo economico-finanziaria hanno focalizzato la loro attenzione sui crediti d'imposta derivanti dagli investimenti in beni strumentali nuovi rilevando tre irregolarità nei confronti di altrettante RSA, aziende orofe nel trasporto merci che hanno utilizzato indebitamente in compensazione crediti d'imposta in misura superiore a uno spettanti per oltre 63.000 euro. Scoperte anche altre due imprese, una si occupa di produzione di spezie, l'altra di fabbricazione di carte e cartone che hanno usufruito negli anni dal 2020 al 2022 di crediti d'imposta inesistenti per circa 182.000 euro. Casi anche nelle vallate aretine, a poppe irregolarità riscontrate nei confronti di un'impresa edile e di un'attività commerciale ed infine invaldarono a San Giovanni in un negozio che aveva indebitamente compensato crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali per oltre 115.000 euro. L'attività ha già provveduto a sanare la sua posizione. Tutti i casi sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate che procederà al recupero delle somme dovute. Complessivamente ad oggi è di 4 milioni e mezzo l'ammontare di crediti d'imposta finiti sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri aretini.